3 punti con il minimo sforzo per lo Spoleto che riscatta subito il K.O. di Santa Maria degli Angeli battendo 2-0 l'Ellera, Gagliarducci, Lasciampanchina, Pociolo, Luparini, Merino e Veneroso e Schiera un 5-3-2 con Cosimetti in porta, Labonia, Chiguobo, Scipioni, Tommaselli e Rosati a formare il reparto arretrato, Rondinelli, Ferreira e Coppola in mediana con Gautiere e Mariano in attacco. Il primo sussulto è dei padroni di casa che al diciannovesimo chiedono un penalty quando Fiorindi finisce giù così in area e Colella di Rimini lascia correre. Ribaltamento di fronte, lo Spoleto trova il vantaggio, Gualtieri circa e trova la testa del classe 2001 Mariano che bagna nel migliore dei modi l'esordio con la nuova maglia, palla alle spalle di Rosignoli e Spoleto sull'1-0. Lellera schierata da Benante con un 4-4-2 offensivo con Rosignoli in porta, Ramilli, Jansi e Mattia Proietti in difesa, Magionami, Rolandone, Mattia Giorgini e Fiorindi in mediana con Nuti e Acatullo lì davanti e reagisce subito e al 24esimo Rolandone centra così il palo alla sinistra di Cosimetti. Un minuto e ci prova anche Nuti e la buona sorte non aiuta Lellera con la palla che scheggia la traversa. Gagliarducci è costretto al primo cambio dopo 28 minuti fuori Rondinelli dentro Veneroso che affianca Mariano ogni due d'attacco con Gautieri da mezzala a destra e proprio Gautieri prima dell'intervallo cerca la porta così dalla distanza. Nella ripresa Veneroso si accende subito testando i riflessi di Rosignoli. Dall'altra parte Acatulla ad impegnare Cosimetti che si salva anche al 63esimo dopo la carambola in mischia. Ad andare in gol così ancora lo Spoleto quando Colella segna un penalty per questo contatto fra Ramilli e Veneroso con il direttore di gara Romagnolo che ammonisce anche Ramilli. Dagli 11 metri Veneroso non sbaglia e firma il 2 a 0 il secondo gol consecutivo. Lellera accende una reazione al 74esimo chiede anche un rigore per un presunto tocco con il braccio in area. E nel finale lo Spoleto rischia in tre occasioni all'ottantesimo quando Cosimetti per poco non la combina grossa sul retropassaggio. All'ottantottesimo quando Acatullo spreca da due passi sull'invito di Nuti e al novantesimo quando proprio Nuti fa tutto bene ma conclude Debole. Quanto basta a sancire lo 0-2 finale che fa salire lo Spoleto al quarto posto e la Scialella era inchiodata in fondo alla classifica. Stefano Scipioni lo Spoleto riparte subito dopo il cappò di Santa Maria degli Angeli. 1-2-0 importante Adele. Sì ci tenevamo a riprenderci subito. Questa settimana ci siamo allenati bene. Oggi abbiamo cambiato modulo, l'abbiamo provato tutta la settimana. Le giocate ci sono uscite discretamente e soprattutto siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che ci servono come il pane in questo momento. Scipioni lì dietro si rischia poco nulla. No, no, anzi no, siamo stati tutti bravi. Quando la squadra non prende gol i difensori sono più contenti. Anzi, noi lavoriamo sempre ogni settimana per cercare di migliorarci e di aiutarci sempre in campo. Oggi è andata bene e siamo contenti. Uno Spoleto che può arrivare dove? Guardi, io sono scaramantico però noi puntiamo in alto sinceramente parlando. Luigi Abenante è un 2-0 che lascia Mauro in bocca per il modo in cui ha maturato e anche per la classifica. Sicuramente prima di tutto per come ha maturato. Perché credo, vabbè, faccio comunque complimenti ai giocatori perché ci hanno messo l'anima fino all'ultimo istante. Abbiamo avuto diversi episodi per poter andare perlomeno al pareggio. Abbiamo preso il primo tempo un palo, una traversa, diverse occasioni anche nel secondo tempo. Purtroppo è un momento che sembra che come tirano un porta ci fanno sempre gol. È dura, è dura. E nel contempo anche la classifica chiaramente non è bellissima. Anzi, è l'esatto contrario. Però penso che ci sia solo da lavorare e cercare di invertire un po' la tendenza. Perché comunque prestazioni ci sono. Certo, quando non fai punti non è mai facile. Però ce dobbiamo... Enrico Polidori tornerà quando? Enrico Polidori dovrebbe tornare fra due settimane. Però comunque dovrà allenarsi. Quindi non so fino a che punto sarà disponibile da subito. Vedremo. È un'altra carta che potremo utilizzare. Ma ora i giocatori sono questi e dobbiamo fare i punti con questi giocatori. Quando tornerà Enrico prenderemo in considerazione anche lui.